Sì, è un nuovo... Oh no... Noi, no, si... Cazzo, comunque qualcuno, no? Non c'è qualcosa... Oh, di lui, che ora sei comunque nessuno, ma cazzo... Dimmi! Vedere un video... tranquillamente safe di Youtube... C'è... C'è una legenda... Tu che devi specificare che è un molto safe... Significa che non è molto safe... Beh, se da me ancora ti farà piacere... Ma io proprio, quella cazzo di forte continuo a spararmi... Nah! 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 Fare stato di tuta è bellissimo... Questo qua è Fede! Non sono io! Ah... È un'arretata da Skeletro... Molto video. Ehm Ehm Ti piace questa native foto da skeleto Ahahah